Perché si è ispirata, diciamo, a... cioè, perché ha scelto Kashin Impact come personaggio? Perché è un personaggio molto solare, che mi piace molto, è la mia preferita di tutto il gioco, quindi ho scelto lei. Che valori incarna, secondo lei, diciamo, che... che valori, cioè, di... non so, perché, diciamo, cioè, come personaggio, che superpoteri ha, diciamo? Ah, lei è un orco che tira frecce e infuocate il tuo video. E... nella sua carriera, diciamo, da cosplayer, che costi ha portato? Ari di League of Legends, poi personaggi di vari anime, come... Mamura di Madoka Magica, Mercy di Overwatch. Complimenti per la sua carriera. Grazie. E poi volevo... puoi mandare un saluto, diciamo, un po', agli spettatori, insomma, e ai visitatori del Comic-Con in generale. Ok. Ciao a tutti, ragazzi. C'è una posa che fa, diciamo, che è in cinica. No. No. No.